Noi parliamo di grande appartenenza a queste marciapiede, a questa città, a questi palazzi, a queste vie. Noi parliamo di amore della città in senso pragmatico del termine. E noi abbiamo un programma pieno di questo pragmatismo operativo per renderlo un'altra cosa. Oggi abbiamo fatto delle riprese per fare degli sport e delle visite. E guardando lo zuccherificio, guardando l'aeroporto e la stazione ferroviaria, guardando quel marciapiede del lungomare, guardando questa piazza, guardando il deserto sul Corso Nubistano e il Corso Giovanni Ricotera, guardando il fallimento dei centri commerciali all'aperto che dovevano essere non solo stati, guardando tutte queste cose, si crea ancora di più in me e in noi un senso di responsabilità decumplicato rispetto a quello che già era grande. Perché tutte queste inconfiute noi non li possiamo lasciare dare. Andate a vedere a località Rotoli. Qualcuno la nomina spesso ma forse non sa neanche dov'è. C'è un mercato ortofrutticolo, un mercato ortofrutticolo, che è nato con i fogli delle pinte dell'Amenino. 16 anni fa si costruisce questo mercato ortofrutticolo e dimenticano all'interno del mercato ortofrutticolo di mettere le celle per la frutta. Rifanno nuovamente un bando di Nara per dotarlo delle celle, mettono le celle, è chiuso da 5 anni ed è in balia delle onde, perché tutti i bando stanno andando lì dentro a prendersene il possibile.